Sapete qual è il fenomeno del momento? È quella! Quella ragazzi è la prima, l'unica, l'originale crema alle noccioli in vaschetta da proporre nella vetrina di gelato delle migliori gelaterie di tutto il mondo. Quella non smette mai di stupirvi, è il gusto rivelazione dell'anno, è il prodotto più innovativo e desiderato di tutti i gelatieri. È l'invenzione di MEC3 che ha battuto ogni record di vendita ragazzi. Quella la puoi mettere dentro il cono per deliziare il tuo palato, oppure per i più golosi può essere trattata come un gusto di gelato, essere messa al posto di un gusto di gelato. È veramente un prodotto eccezionale ragazzi, è di una bontà assoluta. Conquistare i clienti con l'irresistibile gusto di quella è semplicemente un gioco da ragazzi.